Hello everybody e bentornati. Io sono Valeria, Personal Shopper dell'Associazione Italiana di Personal Shopper e oggi vi voglio parlare di quelli che saranno i trend della primavera estate 2021. Sono sicura che dopo aver passato mese a indossare pigiamoni, felpe di pile avete voglia di una bella ventata d'aria fresca e indossare qualcosa di super cool. Siete pronti a prendere nota? Cominciamo dai colori. Le tinte pastello hanno preso il sopravvento, quindi il celeste, il verde menta, il rosa confetto, il lavanda, ma anche i colori della terra, quindi il marrone, l'ocra, il color sabbia. Ma soprattutto amiche, non abbiate paura di mischiare i colori tra di loro. Il lavanda sta benissimo con il giallo paglierino, il verde menta è perfetto con il rosa confetto. Fidatevi di me. Dalla delicatezza delle tinte pastello alla sensualità del vedo e non vedo. Ebbene sì, tornano i cari amati abiti chiffon, maxi e midi dresses e dolci sinfondo ripeschiamo dagli anni 90 le sottovesti. Ma non è tutto. Siete pronti per la vera chicca? Per le più audaci è arrivato il momento di sfoggiare il reggiseno o bralette. Indossatelo come un vero top, quindi con un paio di jeans, ma se ancora non siete pronti ad usare lasciatelo intravedere sotto la giacca. E anche quest'anno fiori, fiori, fiori e ancora fiori. Ma non semplici fantasie floreali, una pioggia di fiori. Ho già detto fiori? Margherite, rose, tulipani, non ti scordare di me. Lasciatevi avvolgere da gonne, camicie, ma anche fulare, calzini. E anche qui amiche, la regola vale uguale. Non abbiate paura di mischiare fantasie tra di loro, come non vero e proprio buche. E ultime, ma non per importanza, care romanticone, la moda non si è dimenticata di voi. Le maniche a palloncino. Sempre più glamour, sempre più audaci, sempre più vaporose. Insomma, più grandi sono, meglio è. Li troviamo su crop top, blazer, camicie, ma anche abiti. Un dettaglio importantissimo, amiche, per regalare poesia ed eleganza ai vostri look. Per oggi è tutto, raccontateci nei commenti quali saranno i capi cool che indosserete nei prossimi mesi e non dimenticatevi di seguire le pagine social del centro che troverete qui sotto. E se volete prenotare una consulenza di stile personalizzata, chiamate una di noi personal shopper. Grazie e alla prossima. Bye!